Anticipazioni Beautiful, Ridge fa arrestare Flo dopo aver saputo la verità su Beth. La totale verità sullo scambio delle culle ben presto verrà a galla e, stando alle anticipazioni americane, Ridge verrà a sapere che Flo è stata pagata proprio dal dottor Reese per fingere che sia la madre di Phoebe, che poi andrà in adozione proprio sua figlia Steffi. E oltre a Flo, Reese, c'è anche un altro complice, ovvero sua madre Shona. Ma nelle prossime puntate vedremo Flo e Wyatt sempre più uniti ed è proprio questo che spingerà la cugina di Hope a confessare tutta la verità. I loro roschi piani non avranno un lieto fine e nonostante Flo continua a chiedere scusa, Ridge e Brooke non avranno pietà. Hope tenterà addirittura di aggredirla e chiameranno la polizia. Così la faranno arrestare come complice, mentre il dottor Reese sarà ricercato, ma ben presto sarà anche lui arrestato e entrambi finiranno in gattabuia. I Logan e la famiglia Forrester si stringeranno intorno a Hope che finalmente abbraccerà la figlia che tanto aveva creduto morta. Mentre Ridge dovrà confortare sua figlia Steffi, che consapevole di dover lasciare Phoebe alla sua vera madre, avrà il cuore distrutto. Iscriviti al canale per non perderti nessun'altra anticipazione di Beautiful. A presto!